Vi auguro una dolce giornata. Il messaggio di oggi è vita sentimentale. La domanda che hai fatto coinvolge la tua vita sentimentale che sta cambiando in meglio. Hai preso questa carta perché in qualche modo la tua vita sentimentale è coinvolta nella domanda che hai posto e le fate possono aiutarti a comprendere un legame poco chiaro. Questa carta significa che è all'opera un miglioramento in campo sentimentale. Altri significati aggiuntivi di questa carta sono ama la tua vita in modo da infondere energia guaritrice alla situazione contingente. Un nuovo amore ti dà prova di essere una persona importante nella tua vita. Sei pronto a incontrare la tua anima gemella. Sta per verificarsi o si è appena verificata una rottura. Vorresti sposarti. Parla col tuo compagno di quello che al momento ti infastidisce. Chiedi alle fate di aiutarti a metterti in contatto con la tua anima gemella. Questo è il messaggio per augurarvi una dolce giornata.